Inaugurata stamani nella sede dell'ex seminario di Gorizia, la mostra intitolata Accento dedicata ai cento anni dell'azione cattolica goriziana, nata nel 1922 come gioventù femminile, mosse i primi passi con attività distinte dalle organizzazioni maschili e negli anni 30 dovette affrontare le limitazioni imposte dal regime fascista. Dopo il secondo conflitto mondiale partecipò al rinnovamento ispiratore del concilio vaticano secondo diventando protagonista fino a oggi del movimento cattolico italiano. La mostra fortemente voluta dal presidente dell'azione cattolica Paolo Cappelli e da tutta la diocesi ricostruisce il forte legame con la città anche attraverso alcune figure chiave come il sindaco Michele Martina e il decano Don Renzo Boscarol. La mostra sarà aperta fino al 23 dicembre.